Ciao ragazzi, in questo video voglio insegnare il plugin Wiglot WooCommerce e come fare la traduzione di un sito web. Se il mio italiano non è buono, io ho video in inglese o spagnolo, molto migliore, ma andiamo a intentare. Wiglot possiamo provare di maniera gratuita. Io ho qui un sito web di prova, io ho fatto questo sito web con contenuto, io ho qui il blog e anche ho il shop. Questo shop è una delle ricommendazioni per usare Wiglot e perché in alcuni Wigcommerce abbiamo molti prodotti e per facciare la traduzione uno per uno puoi avere o noi abbiamo di usare molto tempo e questo Wiglot aiuta a facciare la traduzione molto veloce. Abbiamo qui, per esempio, 190 prodotti e per uno per uno con alcuni altri plugin puoi essere molto molto piano. So, andiamo qui a Plugins, andiamo a aggregare Wiglot, cerchiamo Wiglot, facciamo la installazione e attiviamo. Voi potete guardare, io ho Elementor, Elementor è anche molto facile di di facere la traduzione solamente con la installazione di Wiglot, anche io invato Elements, è un plugin con templates per Wordpress di maniera gratuita o anche per pagare, Runmaseo, utile per facciare il SEO, qualche pagina di Wordpress è compatibile con Wiglot e anche abbiamo Wiglot. Andiamo a configurazione e il primo piano che andiamo a facere è installazione via API Key. Noi possiamo registrare in maniera gratuita e una volta che siamo registrato andiamo a scrivere il nome del progetto, selezionare qual'plattaforma, e-commerce, PrestaShop, Shopify, Weebly, Wix e naturalmente andiamo qui a selezionare Wordpress. E aquí abbiamo il API Key. Copiamo, facciamo il pegamento. Si, nostra lingua, prima lingua italiana possiamo cercare italiano. Ah, questa volta io inglese. cerchiamo e cerchiamo idioma destino italiano. E' tutto, è tutta la configurazione che dobbiamo facere qui in Wordpress e si andiamo al nostro sito web possiamo guardare qui il language switcher e al faceare il click in italiano in l'altra lingua in l'altra lingua a traduzione automatica. E' tutto molto facile. Se andiamo qui al blog andiamo a guardare che il contenuto è già in italiano. andiamo qui al shop di WooCommerce se noi possiamo o vogliamo facere il cambio nel nome possiamo facere qui desde il dashboard ma io voglio insegnare che traduzione molto facile automatica molto rapida molto veloce e se è tutto non dobbiamo facere alcuna contra cosa e è tutto se noi vogliamo facere cambios in il language switcher abbiamo qui desde Wordpress il drop down o l'idioma in in alcun lato sbanderas circolo il nome il nome lo è piccolo il CSS se anche vogliamo il language switcher in il menu andiamo qui in appearance menu e andiamo ad aggregare i Wiglots come se fosse alcune altra pagina andiamo guardare abbiamo qui facciamo l'update e anche abbiamo qui non ritorniamo vado eliminare qui e alcuni di là o tre altre opzioni il menu come widget come shortcode se vogliamo facere alcuna esclusione di URL qualche contenuto di noi non vogliamo tradurre anche è possibile se noi vogliamo facere la redirezione se abbiamo alcuni visitanti di di spagna vogliamo insegnare spagnolo è possibile o alcune altre lingue abbiamo anche la traduzione di l'email AMP o l'icerca di WordPress anche voglio insegnare il dashboard di Wiglot il setup è di maniera automatica andiamo a selezionare che è la industria di nostro sito web il tipo per esempio è una e-commerce e qui è il dashboard e qui abbiamo il dashboard possiamo scegliere alcuni altri plan di Wiglot possiamo io ho il plan advanced con plan advanced abbiamo un milione di parole e anche di subito dieci lingue che io posso avere ma la raccomendazione è che se voi avete Wiglot è migliore avere di meno per esempio se ho dieci lingue selezionare sei cinque o quattro perché se noi abbiamo tutte le lingue è molto facile avere queste un milione parole ritorniamo home e qui in traduzione podemos facere cambios di maniera manuale per esempio questa parole se noi vogliamo facere alcuna cosa possiamo facere il cambio manual di questo modo andiamo a mostrarle per esempio qui un blog io ho questo blog già in italiano ma io ho la immagine nell'inglese se io voglio facere il cambio andiamo qui a add media translation dobbiamo aggregare il link della immagine facciamo clic direccio copiamo direzione aggregamos ma dobbiamo avere anche il link di la immagine in italiano andiamo qui a wordpress media e abbiamo qui la immagine italiana se l'italiano non è buono io ho utilizzato dipo ritorniamo qui facciamo aggregamo il nuovo link ritorniamo alla pagina e abbiamo già il la immagine nell'italiano e questo è tutto per fare la traduzione molto veloce non è fatto di più possiamo ritornare e noi vogliamo facere traduzione manuale di una per pagina e non tutto e non il contenido qui abbiamo il filter di solo il contenido che ha in questa pagina abbiamo anche il visual editor se vogliamo facere la traduzione il front end abbiamo qui la possibilità di facere la traduzione e facere il cambio glossary se noi vogliamo non tradurre alcune parole il nome del negozio possiamo aggregar qui si noi bisogniamo di aiuta profezionale o totalmente nativos di idioma anche possiamo pagare questo servizio di wiglots e e qui possiamo facere la traduzione del url per esempio per il seo internazional qui abbiamo l'idioma inglese ma si noi vogliamo in italiano possiamo facere clic e automaticamente si faccia la traduzione ritorniamo facciamo l'attualizzazione e abbiamo qui il contenuto dell'url in italiano alcune altre cose del seo internazionale voglio mostrare andiamo a vedere qui il codigo guardiamo qui il titolo c'è in italiano andiamo a facciare la comparazione con inglese abbiamo qui inglese nella descrizione e qui in italiano abbiamo qui che questo contenuto è in italiano e questa altra è in inglese un altro importante aspetto per il seo internazionale sono gli HRE Flanks Wiglot faccia questo di maniera automatica di questa forma diciamo che questa pagina in inglese ha un'alternativa che questo link in italiano e di questa forma diciamo noi a Google per favore Google questa pagina è per chi parla italiano e questa per visitanti che parla inglese e così si aiuta con la traduzione e con il seo internazionale di maniera automática e noi non dobbiamo facere di più se ritorniamo qui abbiamo gli statistics possiamo vedere quanto visitanti per traduzione abbiamo nel settings se vogliamo oltre nombre il URL il lingua originale la redirezione e anche gli links externals qui nel language switcher è lo mismo che in wordpress e anche qui nel link switcher appearance possiamo cambiare la bandera per esempio abbiamo qui gli United States gli Stati Uniti e abbiamo altra bandera lo mismo della traduzione e la esclusione della traduzione di URLs e nel setup abbiamo il API key los wordpress settings e qui nel team possiamo agregare il manager o il team de traduttores ritorniamo qui in translations la traduzione si vogliamo agregare alcun altro idioma per esempio vamos a seleccionare danese anche cinese si vogliamo di più lingue e guardiamo qui abbiamo l'inglese con la bandera degli Stati Uniti abbiamo il danese e il cinese e di maniera automatica abbiamo la traduzione non dobbiamo facciare di più e il contenuto di prodotti sono in la lingua che vogliamo di questa forma è molto facile utilizzare Wiglot aspetto che questo video sia di aiuta se vuoi hai domande per favore scrivi in comment grazie per guardare questo video